E sempre nell'ambito del tema di sottolineare la mia diversità voglio affrontare un punto dove la mia diversità è veramente una diversità che mi distingue e mi contrappone. E mi contrappone in modo particolare al senso comune e a una di quelle psicoterapie fatte molto spesso da non psicoterapeuti che è la PNL dove la base sia del senso comune sia dell'educazione che si fa a scuola sia l'educazione che si fa in casa E' che per riuscire nella vita bisogna mettercela tutta e la frase di rito è se ti impegni riesci se non ti impegni non riesci ci devi mettere volontà. Ora questo è veramente un qualcosa che sta creando seri problemi sia a scuola sia sul lavoro sia in psicoterapia. E crea uno dei problemi più grossi e più difficili da risolvere che è la reazione cosiddetta depressiva cioè di tristezza senza speranza. Un depresso è uno che applica perfettamente questa massima e crede fermamente che se ci mette tutta la volontà se vuole vuole fortezza e fortemente vuole riesce. Ora alcuni vogliono vogliono riuscire all'esame e quelli che vogliono vogliono riuscire all'esame ce la mettono tutta cosa succede? Che cominciano a scatenare un inferno emotivo perché è un desiderio importante quello di riuscire. Sto dicendo che l'esame è importante se supero quell'esame posso pigliare più rapidamente una laurea oppure ho il diploma e quindi temo il contrario cioè se mi bocciano non è una torta gelata a quel punto la bocciatura. E se credo fermamente e ho fatto mia questa frase e credo fermamente che se ce la metto tutta riesco che succede? Che io ce la metto tutta però comincio immediatamente il futuro è incerto e vorrei trovare un ago nel pagliaio di fare qualcosa per evitare la bocciatura. Vorrei essere certo che domani non mi bocciano. Molti di noi quando studiano per prendere 8 e evitare un 4 e vogliono vogliono prendere 8 ma soprattutto vogliono evitare un 4 cosa fanno? Studiano malissimo cioè cercano di ricordare tutto a memoria perché se voglio evitare il 4 la mia mente pensa a tutte le situazioni pericolose, a tutte le domande che mi possono fare, a tutti gli errori che posso fare. Io non sto pensando a come fare per pigliare 8, non sto pensando al fatto che il professore dà più importanza a una cosa piuttosto che non sto leggendo sottolineando quello che è importante come se dovesse andare a fare un colloquio con qualcuno e andargli a dire quello che è importante, che ho letto che era importante o meno. Ma guardiamo il rapporto di questa verità, tra virgolette, di questa certezza, tra virgolette, è la depressione. Il depresso è uno che fa sua questa verità, se mi impegno riesco, il suo obiettivo però non è l'impegno semplicemente scolastico o sul lavoro o su altro, soprattutto nella depressione cosiddetta definita maggiore, il depresso mettiamo tra virgolette maggiore, tanto per intenderci, pone come obiettivo e si impegna per fare le cose e dice che per riuscire a fare le cose ci vuole motivazione e volontà, bisogna avere volontà e quindi il suo obiettivo è di procurarsi volontà con la volontà, cioè procurarsi uno stato d'animo motivato a fare, si vuole alzare la mattina e vuole sentire se è motivato a fare. Appena si accorge che non ha nessuna voglia di fare quello che deve fare, il depresso dice non ho nessuna voglia o come mai mi sento così o perché mi sento così, come farò a lavorare in codeste condizioni. Ora impegnarsi ad avere uno stato d'animo e il fine diventa lo stato d'animo, beh è veramente una sciocchezza, vuol dire, ecco perché ho sottolineato il fatto che le emozioni dipendono e l'emozione come qualunque stato d'animo dipende dai pensieri, prendere uno stato d'animo come qualcosa di diverso da me e lo posso raggiungere con la volontà e sto ignorando che ogni stato d'animo, ogni emozione dipende dai miei pensieri, la serenità, la voglia di fare, la motivazione e in questo caso con la depressione, la motivazione da che cosa dipende? dipende dal fatto che mi sono posto un obiettivo, anche con fatica sono riuscito a raggiungerlo, mi addormento dopo che ho raggiunto quella cosa, domani mattina mi alzo motivata a ripeterla e anche a far meglio, quindi la mia motivazione è l'effetto collaterale del fatto che ho ottenuto qualcosa, non posso crearmelo con il voler volere impegnandomi a volere e a sentire entusiasmo per fare le cose, perché ogni stato d'animo come ogni emozione dipende dai miei pensieri, ho sottolineato il fatto che posso avere un sogno bello, è sogno bello, come ce l'ho? Sono felice, sono contento, sono anche entusiasta, e come è che sono stato entusiasta, sono felice al punto che non mi voglio manco svegliare? Perché c'era quello che stavo pensando? Era reale? No? Io stavo pensando qualcosa che era piacevole, che colmava un mio bisogno, e l'effetto collaterale è che ero felice e potevo essere anche entusiasta e motivato a rifarlo. Come fa un bambino piccolo, un bambino di due anni, due anni e mezzo, che sta imparando a camminare, che comincia a camminare e impara a salire un gradino o a saltare un gradino, se ci riesce la prima volta, magari titubando, poi ci riesce, un bambino piccolo fa almeno dieci volte, salta dieci volte quel gradino, e lo vedete un bambino piccolo quando fa quell'operazione, a saltare dieci volte? E' contento e lo ripete, non si stanca, è motivato a farlo. Perché è motivato? Perché ci è riuscito. Immaginiamo il bambino piccolo, questa è un'epoca che purtroppo non ci stanno i bambini, perciò non capiamo certe cose, io ne ho cinque, ma un bambino piccolo che sale un gradino e lo vuole saltare e ci batte il muso, vedrai che fra due mesi ci riprova, e non lo vedi risalire con entusiasmo, ma evita di fare il salto di prima, perché si è fatto male, non ci è riuscito, il bambino piccolo stranamente si allontana dalla cosa, cerca di dimenticare, lo dimentica e solo allora può ricominciare a fare e se ci riesce lo vedremo motivato a ripetere un gesto che ha portato a un buon risultato. Ecco la motivazione, quindi la motivazione, quello stato d'animo, di volontà e di motivazione non lo posso raggiungere in via diretta con la volontà. Tutta la psicoterapia, bene o male, se andiamo a sentire psicologi famosi, affascinanti, quello che volete, di fatto se state ad ascoltare tutte le indicazioni che vi danno partono da un presupposto che noi siamo liberi di scegliere e che con la volontà possiamo ottenere. Tutte le indicazioni danno per scontato che tu puoi farlo perché con la volontà. Ci metti volontà, scegli e fai. E anche quando cercano di motivarti o di risollevare un depresso, lo fanno tenendo conto o pensando. E infatti molte volte quando uno psicoterapeuta si sente in qualche modo frustrato dal fatto che il depresso non si muove, beh, io vorrei che gli psicologi che mi stanno sentendo, o tutti coloro che si occupano di queste cose che mi stanno sentendo, vorrei che rispondessero con sincerità a questa domanda. Vi siete incavolati terribilmente come un depresso dicendogli tu non ci metti volontà, tu vuoi stare male. E si sono consolati così. No, lui ce ne ha messo troppo di volontà e tu non gli sai indicare la strada. Questa è la realtà.